quando siamo in una corta distanza io tiro pugni i miei pugni falliscono entrano in gioco le armi a raggio corto quindi io vengo avanti pugni falliscono armi a raggio corto quindi gomiti e ginocchia posso lavorare in questo modo qua importante essere fluidi come l'acqua vengo qua gomito gomito da qua lui mi schiaccia faccio arrivare verso di me gomitata gomitata a ferro vado giù quanto riguarda le ginocchia io posso tirare ginocchiato al corpo agli arti inferiori bam seguito sempre da una ginocchia qui vengo qua uno due tre quattro sedimi accedo gomito 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 controllo importantissimi ginocchiata quindi io sto qua non mi tocca uno ok in questo caso le gomitate quindi siamo in una corta distanza vengo qua due tre quattro che da qui posso lavorare con i gomiti ok ginocchio ginocchio vengo qua lui fa pressione uno a ferro gomito 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 posso tirare di ginocchio 1 2 3 4 le ginocchia le possono andare in questo modo qua io entro subito con una gomitata a ferro posso tirare